...è fuori dai pali, stroppa, cerca la porta... ...la fa scorrere fuori dai quadri... ...è nel momento che il portiere è veramente pressato... ...è il cross, verso Cali dice, chiuso da Kolarov... ...che sì, ma anche la conclusione di sinistro... ...poi fa... su, destro, guardo... ...sicurazione... ...ecco Pellegrini che può cercare anche la conclusione... ...e ora sinistro controllato... ...eccolo proprio... ...el suo insegnamento, quasi senza avversari che lo hanno seguito... ...cora Borini, uomo ovunque... ...Riccardo Rodriguez... ...Valcross deviato sul secondo palo, è arrivato... ...Andre Silva... ...sul fondo... ...per Florenzi davanti a Donnarumma che lo ferma... ...la migliore occasione... ...a posizione di Romagnoli... ...e non ha la consapevolezza che Florenzi ce l'ha all'interno... ...e cross altrettanto lieve... ...per Bonucci che va di testa... ...deviazione... ...Bonucci... ...Alisson... ...il calcio... ...perché veramente il Milan meritava... ...meritava quali... ...di Musacchio... ...Cecco grandissimo controllo... ...il tocco per Nainggolan che va... ...la conclusione... ...sinistro respinto corto... ...su Florenzi... ...2 a 0... ...1-2... ...micidiale... ...della Roma... ...ipartenza... ...voglio rivedere la... ...la respinta... ...